Spunta una fede al dito di Allegri, c'è già chi sogna il matrimonio con Ambra Angiolini Massimiliano Allegri è pronto alle nozze con Ambra Angiolini? Al momento non è dato saperlo. Una cosa è certa però. L'allenatore della Juventus si è presentato davanti ai giornalisti con un anello che sembrerebbe una fede. Così, in tanti già hanno iniziato a fantasticare sulla possibilità di un matrimonio imminente tra l'attrice e il mister. Il dubbio nasce in conferenza stampa. L'indiscrezione ha preso piede durante la conferenza stampa tenutasi all'innovo alla vigilia di Atalanta Juventus, gara valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. L'allenatore, infatti, si è presentato davanti ai giornalisti con un anello al dito che sembra essere una fedina. . Inutile dire che il dettaglio non è passato inosservato. . I tanti fan dell'attrice e di Allegri, sognano già i fiori d'arancio. . Lo scorso settembre, Ambra ha confermato la relazione. . . Ospite di chi ha incastrato Peter Pan e incalzata dalle domande dei bambini, Ambra Angiolini si è vista costretta ad ammettere di essere fidanzata. . L'attrice, però, non ha voluto dilungarsi troppo sull'argomento. . Nonostante diverse riviste l'abbiano immortalata mentre si scambiava temeri baci con Massimiliano Allegri, la Angiolini non intende dare in pasto alla stampa più dettagli del dovuto. . La gravidanza smentita. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una presunta gravidanza. Le foto del pancino sospetto hanno fatto capolino sulle riviste di gossip. . Massimiliano Allegri ha affidato una smentita al suo entourage, poi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. . L'allenatore della Juventus ha chiarito che si tratta solo di una fake news. .